La seconda stagione di Gomorra, si apre con Jenny in Barella, Don Pietro Savastano, in fuga in Lombardia e poi in Germania, e Ciro Di Marzio, intento a proporre l'alleanza con Salvatore Conte, e trovare a suo modo, i soldi per comprarsi una piazza di spaccio. Per farlo, uccide l'autista del portavalori assaltato. Ma sa anche, come affondare le indagini sul tentato omicidio di Jenny, sul quale la polizia indaga. Nei primi due episodi, diretti da Stefano Sollima, che firma anche la supervisione artistica, della fiction ispirata dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano, si delineano le due fazioni in guerra. Da una parte i Savastano, sostenuti dai fedelissimi di Don Pietro, dall'altra il clan Conte. Di questo fa parte Ciro, e la new entry, Chanel. La prima puntata si chiude con Jenny e Don Pietro inseguite dalla polizia dopo un attentato al quale sopravvivono. Proprio nella fuga il boss ha un malore, ma il figlio riesce a portarlo in salvo. I due però ben presto dovranno separarsi. Gli episodi saranno 12. Il soggetto è di Stefano Bises, Leonardo Fasoli e Roberto Saviano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.